I padroni di casa per tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive, gli ospiti per dare continuità dopo una convincente vittoria. Benvenuti a Givova Scafati, Bertram, Dertona, Tortona. Finenza! Comincia con una schiacciata. Robinson con la tripla che porta la Givova sul più 5. Colme Ross vuole rispondere immediatamente e ci riesce. Riversa. Fino in fondo. Schiacciata Vivani. Ross. Tripla pesante. Lo scarico per Henry. Si prende la tripla. Dao si prende il processo e ci smentisce realizzando la tripla. 11 a 4 per ora nel secondo quarto. E diventa 14 a 4 perché Wims segna la tripla. Robinson per Nange. Funziona benissimo al pick and roll. Ci sono altri due per John Nange. Atletissimo di ridere la sala meglio. Oh ma Johanna! Suona la carica. Candy si prende la tripla. E ancora una volta allo scadere del parziale. La Bertram trova la tripla. Yeah, we've really got to lock in defensively. 43 points in two quarters is too much. We've got to limit those shots at the end of the quarter because those are back breakers. Baccio Anna. Si prende il tiro. Trasforma. Nange. Scarica per Rivers contro Strautins. Rivers! Che tripla! Dimitri Rivers. La transizione della Bertram con la schiacciatona di Andrew Strautins. Ancora Robinson trova la linea di penetrazione. Arriva fino in fondo. Che bello. Rotten. Rossmann. Lì va il fischio. C'è il canestro. 62 scafati. 63 tortuna. Il recupero di Nange che legge in anticipo. E va anche a dare il contenu numero 63-64. John Nange in un momento di grande difficoltà. Suona la carica per i suoi. Time out. Wow. Tempo, spazio. Ne approfitta realizzando la tripla. Gentile. Henry. Si prende la tripla. La mette a segno. Seth Perry. L'attaglio di Radosevic. Wins si prende la tripla. Kyle Wins. Meno uno. Rossato. Piedi a posto. E tripla. Riccardo Rossato. Più quattro scafati. Radosovic. Che risponde alla grande. Baldasso. Il blocco di Leone. Guarda se vince. Baldasso. Ciao. Tommaso Baldasso. Sorpasso Bertram. Spinkins si prende. La tripla. Del pareggio. 85. Rossato. La tripla. Da casa sua. Riccardo Rossato. Si porta avanti. La girova scafati. Penetrazione. Ross. Seck Henry. Canestro valido. Cinque secondi. Sei decimi. Gentile. Henry. Fallo di Strautis. Realizza il primo libero. Henry fa due su due. Quattro secondi. Quattro decimi. Per il tiro della speranza. La tortona. Ci prova. Ross. Full time. Vince. La girova scafati. 94 a 91. Esce comunque a testa altissima. La Bertram. D'ertona. Tortona. Ci ha provato fino alla fine. Stay connected as a team. You know, I thought we really rallied around each other. You know, we had some ups and downs in the second half. But, you know, how we finish the game is how we got to finish the season. And it shows the game. Let's turn iTunes. Let's go quanto later. Oh. 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 Well, it's same. Grazie a tutti.